ciao io sono Manuel Portioli vi parlerò di com'è stato essere un artista qui in Norvegia in questi tempi di coronavirus ed in questo momento mi rendo conto che le selfie stick sono passate di moda ma sarebbe stato abbastanza carino averne una in questo momento The Promised Land è una mostra ciclica è una mostra dove abbiamo un inizio ed una fine l'inizio è rappresentato da Prometeo grande civilizzatore nella maniera in cui appunto rubando il fuoco agli dèi di averlo donato agli esseri umani ci ha trasformato da società tribale ad una vera e mobilizzazione tecnologicamente avanzata di conseguenza ci ha reso quelli che siamo questo è l'inizio del ciclo il ciclo si muove dall'altro lato della mostra con Atalanta Atalanta era una cacciatrice e sacerdotessa di Artemisia che ha avuto la colpa di essere l'unica donna in una spedizione di soli uomini è la colpa forse ancora più grave di essere stata la prima a versare il sangue di questa bestia di questo cinghiale enorme che aveva portato devastazione in cani donne questo episodio per me è emblematico della nostra società emblematico della nostra società perché la guerra vera e propria non è iniziata con il problema enorme che questo cinghiale aveva portato alla società di allora questo cinghiale che uccideva persone che devastava raccolti ma successivamente quando questo cinghiale era stato ucciso i grandi eroi messi assieme per ucciderlo dovevano spartirsi il bottino tutti logicamente volevano quel medesimo bottino tutti logicamente volevano la pelle i tendini le zanne del cinghiale di conseguenza ci fu un'altra guerra una guerra fratricida dove queste casate combattevano per ottenere il bottino derivato dall'uccisione del cinghiale e a me questo episodio ricordava molto della nostra società la mostra è stata aperta solo un weekend un paio di giorni dove sono entrate circa un centinaio di persone quanto mi hanno detto alla spicciolata non potevano entrare più di otto persone alla volta però insomma qualcuno è venuto comunque a vederla successivamente a quel primo weekend la mostra è chiusa è stata abbastanza difficile l'idea di potermi relazionare con il rimettermi a lavorare immediatamente dopo la fine di una mostra che peraltro non era mai stata propriamente inaugurata che peraltro sembrava sarebbe rimasta chiusa sostanzialmente per tutta la sua durata di conseguenza diciamo che di mettermi a continuare con la produzione di quadri mi risultava abbastanza inconcepibile questo mese di lockdown come vi dicevo in Norvegia è stato un attimino più leggero che in Italia non abbiamo poliziotti che inseguono la gente per la spiaggia naturalmente raccomandazioni sul come comportarsi sul lavarsi le mani e compagnia bella ci sono anche qua però tutti i negozi sono chiusi di conseguenza la popolazione è rimasta sostanzialmente disoccupata la disoccupazione è aumentata dal poco meno del 5% al 30% e diciamo che è difficile anche l'idea di relazionarsi e l'idea di mettersi a lavorare di produrre qualcosa di nuovo in un momento in cui tutto sembra finire questo qui che vedete è il mio studio come vedete non succede tantissimo da un po' di tempo la possibilità di lavorarci ci sarebbe stata perché qui in Norvegia abbiamo possibilità di muoverci durante questo lockdown praticamente tutti gli esercizi commerciali sono chiusi però sarei potuto venire qui in studio mi è stato abbastanza complicato farlo perché avevo appena finito una mostra molto importante avevo voglia di prendere una pausa vi ringrazio per lo spazio mi auguro tantissime cose belle per tutti grazie Valentina e grazie Emanuela e alla prossima ciao da Manuel Portioli Bergen Norvegia grazie a tutti